Musica Siamo precari perché lavoriamo a progetto Musica C'è un forte ragionamento sull'assenso di precarietà che sottende tutto il lavoro sul disco dal punto di vista musicale e testuale Musica Le possibilità di lavoro di tutti sono fortemente messe in discussione, più che altro le possibilità di vivere giorno dopo giorno Devi dichiarare 70 aperture impulse l'anno per accedere al sussidio di disoccupazione e agli assedi familiari È difficilissimo fare 70 spettacoli in un anno, è ancora più difficile fare 70 aperture impulse Dunque quasi nessuno ci arriva, nel mio caso io ho due figli e non posso accedere agli assedi familiari Musica Ci troviamo tutti quanti sulla stessa barca, tutti quanti precari e abbiamo il dovere l'uno e l'altro di darci una mano perché siamo pilastro l'uno dell'altro E per questo invitiamo tutti a partecipare alla manifestazione del 15 ottobre a Roma perché ci saremo tutti quanti Musica 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 Musica